Allora, io sono Matteo Vignanerio Negger, sono responsabile commerciale di Atman Tresor Italia. Atman Tresor Italia nasce nel 1996 dalla casa madre tedesca Atman Tresor Italia, che è nata circa 25 anni fa. Atman si occupa di sicurezza passiva, quindi produce e commercializza prodotti come dalle casseporti, agli armadi blindati, a tutto quello che riguarda la sicurezza e il contenimento. Nel nostro caso penso che possa essere più importante ovviamente tutto il lato lusso, quindi produciamo casseporti di alta gama. Facciamo tutta una serie di personalizzazioni della cassaforte per renderla unica nel suo genere e quindi andiamo alla prima cosa principale, quindi la scelta del livello di sicurezza della cassaforte. Noi lavoriamo prettamente al 99% con casseporti certificati secondo la normativa europea, quindi si va a selezionare la classe di sicurezza, la resistenza all'antiscasso e poi da lì le dimensioni molto importanti e il peso. E poi da lì si va a personalizzare in ogni dettaglio, quindi dalla finitura esterna con la scelta di laccature, colori particolari oppure rivestimenti in pelle o rivestimenti in legno, scelta della combinazione elettronica appunto che possa permettere all'utente di essere il più comodo possibile, quindi dalla partenza, dalla chiave o a quella meccanica, quindi quei rostri che si girano o l'elettronica o la biometrica. In più e poi tutta la parte interna, quindi si va all'interno e si sceglie appunto se mettere dentro di caricatori di orologi, luci led, cassetti rivestiti in legno, in pelle, cantara. I cassetti possono essere per orologi, penne, colliere, quindi tutta la parte che il cliente vuole andare a mettere dentro. Ci sono i materiali, la scelta delle pelli, a volte anche richiesto dai clienti, ci viene anche richiesto che vogliono questa pelle, quindi ci danno la pelle che vogliono e noi la vestiamola. Quindi appunto la personalizzazione, noi possiamo offrire tutta una serie di materiali, ovviamente già scelti come pelli o pelli vere, alcantara oppure velluti, quindi già noi possiamo dare una scelta. Ma poi il cliente che poi decide, no, voglio questo materiale perché voglio che la cassa porta sia rivestita nello stesso materiale in cui è rivestita il mio divano, perché magari è lì. Sono modulare, sono fatte su misura, questi pannelli vengono assemblati, vengono costruiti su misura in base alla stanza già esistente e poi vengono assemblati dall'interno e si realizzano poi appunto queste stanze anche di grandi dimensioni all'interno di appartamenti e così via. Quindi queste stanze poi possono essere rivestite e quindi assomigliare totalmente a un appartamento, a una camera qualsiasi. La differenza è che è una cassaforte gigante, quindi dà la possibilità di contenere tutto quello che si potrebbe contenere in una cassaforte molto piccola ma far entrare anche le persone all'interno.